Luca, una bella reazione, anche se siamo rimasti in dieci con il tuo gol che ci ha fatto assaporare la vittoria. Sì, a livello personale sono molto contento. Peccato per la fine, era praticamente finita, potevamo portare a casa il bottino pieno. Come hai visto la partita in generale? Guarda, la partita anche in dieci l'abbiamo giocata in viso aperto, l'abbiamo portato in vantaggio anche, quindi c'è tanto rammarico per la fine, come ho detto, potevamo portare a casa i tre punti che erano, se vai a vedere l'inizio di secondo tempo, era quasi impossibile, ma noi siamo un gruppo vero, un gruppo che non molla mai, quindi non molliamo niente. Noi pensiamo alla prossima partita di sabato con l'imolese, che è una partita importantissima. Vuoi dedicare a qualcuno il gol? La dedico alla mia famiglia, che c'è sempre, e alla mia ragazza.